Ecco adesso si può continuare Questo è il letto di nostra vita Una smaggia Hop la c'è stata portata ecco se non riesce a venire indietro si accelera e non c'è problema vediamo se riesce a girare qua a Darolo Beach oggi è uno spettacolo ecco adesso posizioniamo il carrelletto ecco